Aumentano vertiginosamente i numeri di contagio e ricoveri. Il governo convoca per domani la cabina di regia che produrrà nuove restrizioni. L'ipotesi è di obbligare ai tamponi anche i vaccinati che debbano partecipare a feste che in campagna tuttavia sono già proibite al chiuso da De Luca. Altra ipotesi è la riduzione fino a 4 mesi della durata del Green Pass per accelerare ancora sui vaccini di cui si discuterà anche l'obbligo insieme a quello scontato della mascherina all'aperto. Escluso il coprifuoco non ci saranno di vieti per i cenoni di Natale e Capodanno in famiglia ma non mancheranno le raccomandazioni. Ne parleremo dalle 21.30 sul canale 90 Rai, dalla ricerca della libertà nella difficile convivenza tra salute ed economia. Voce a operatori della ristorazione, bar e commercio in genere, voce anche alla scienza. È un interrogativo di fondo. Sarebbe stato possibile evitare sotto l'albero la stretta che ha preso il posto della classica strena?